mister allora si fa sul serio ti chiedo quali sono le sensazioni alla vigilia del debutto e cosa ti aspetti dalla prima ufficiale di domani beh siamo innanzitutto molto contenti di iniziare perché ci fa piacere giocare per qualcosa che conta il carpi ci tiene ad andare avanti in coppa quindi cercheremo di fare subito una buona partita nel rispetto dell'avversario che è un avversario importante ma io sono sono fiducioso perché ho visto bene i ragazzi corticella che ha cambiato rispetto all'anno scorso è una squadra che nei campionati parte sempre molto forte ha giocatori anche leggeri che avversario è sì hai detto giustamente tu è una squadra giovane leggera sicuramente fa del dinamismo una delle sue armi migliori la squadra organizzata allenata bene però noi dobbiamo pensare a fare bene le nostre cose è un test importante test che non vediamo l'ora di giocare e quindi siamo molto curiosi tre domande sul campo ti chiedo se hai scelto il modulo se hai sciolto il dubbio quello più 50 50 quello sui portieri e se ci fai un quadro sui vari eventuali recuperi parlo di tentoni rossi dorsi e ceccotti che erano gli ultimi un po accertati si allora sul modulo si partiremo a rombo però abbiamo una squadra che può tranquillamente trasformarsi tra 52 quindi non è non è detto che in corso venga anche utilizzato il 352 domani partirà abiti non è una scelta definitiva però la scelta di domani e i recuperi diciamo che dorsi è a disposizione per far qualche minuto mentre ai tentoni ce lo teniamo per la prima di campionato ceccotti e rossi ceccotti è disponibile nei venti convocati mentre rossi verrà secondo me pronto per la prima di campionato barra seconda grazie 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 grazie